Un mister di Loreto dopo il 2 a 1 qui ad Albano contro l'Albalunga, semifinale di ritorno è un peccato per quello che si è visto per 70-75 minuti di gioco Sì, è un peccato, però oggi abbiamo capito che per il proseguito del campionato almeno abbiamo una grande chance per arrivare fino al fondo devo complimentarmi ai tuoi ragazzi perché penso che soltanto un gruppo come questo e perdendo 3 a 1 in casa e venire qui a fare la partita che abbiamo fatto oggi soltanto loro erano capaci Grande carattere, grande carattere, penso che se la palla di Marini fosse girata un po' più verso sinistra No, ma c'è stato nell'azione di Marini il doppio palo Noi dovevamo dare un grosso segnale oggi a tutti noi ce lo siamo dato, abbiamo capito tante cose perciò io sono più che soddisfatto e contento di ragazzi